Era colperato da Malesciano dei canapigliani di Filippo Dorelli, anche lui ha detto che potrebbero essere falsi, a parte di questo Malesciano che sono falsi, perché la sua stessa chiedono, prima cosa, che è vera, faccio la guanientata di vedere quale è delinquente, però dovremmo questi guarda fine da primate. Grazie a tutti. Via! 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 Via!